L'intento è quello di battere tutte le piste e non lasciare nulla di intentato. Per questa ragione l'avvocato della famiglia Carasoniti, Francesco Gigliotti, ha sollecitato una serie di accertamenti al PM della Procura di Catanzaro, Francesco Bordonali, titolare del fascicolo d'indagine sulla morte dei tre fratelli di 22, 16 e 12 anni, nell'arrogo che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha distrutto l'appartamento popolare di via Caduti, 16 marzo, nel quartiere Pistoia di Catanzaro. Tra le inchieste sollecitate dal legale vi è, oltre a un'accurata ricerca di tracce organiche con il Luminol, anche la ricerca di tutte le chiavi dell'appartamento, sia quella della porta d'ingresso che delle porte interne, alcune delle quali sarebbero state chiuse a chiave. Anche l'analisi dei tabulati telefonici rientra tra le sollecitazioni dei legali per capire quali movimenti siano stati fatti prima dell'incendio, se sia stato chiesto aiuto e a chi. Interrogativi ai quali devono trovare risposte i carabinieri della scientifica del comando provinciale di Catanzaro e i vigili del fuoco.